Vi segnaliamo un evento interessante. Il 16-17 novembre Firenze ospiterà il By Tourism Online, un momento di incontro formativo, informativo e commerciale tra gli operatori del turismo e i fornitori di nuove tecnologie che stanno radicalmente e rapidamente trasformando il settore. By Tourism Online si distingue dalle tradizionali ferie sul turismo per le nuove tecnologie che applicate al marketing possono offrire grandi opportunità agli operatori individuali. Non mancheranno conferenze e convegni su temi di impatto rilevante del settore, insomma un workshop di incontro tra domanda ed offerta qualificata. BTO, ci sono anch'io alla BTO, questo evento a novembre sul turismo, se vi capita ci sono una marea di ospiti, ho visto tutto il mondo che si parla di turismo online. Allora... Chiamo! Allora... Allora... ... o